ciao a tutti benvenuti a questa nuova puntata di liberamente in camper come avete visto dalle immagini ho voluto coinvolgere fabio viviani il responsabile di acqua travel direttamente in un corso sull'acqua potabile cioè quali rischi si va incontro nella conservazione delle acque all'interno dei nostri serbatoi di camper o caravan l'impianto idrico come mantenerlo in ordine sapete che poi io sono molto semplice vado come dire sono molto casalinga di voghera nel chiedere le cose e nel fare le domande abitualmente io pulisco il serbatoio con acqua e amuchina con acqua e aceto con acido citrico una volta ogni sei mesi quante volte devo pulirlo che rischi vado incontro alla legionella la carica batterica insomma queste tante altre domande è possibile farle all'interno del corso il corso è gratuito basta registrarsi nel link che trovate sia qua nella bio oppure entrate in liberamente in camper c'è proprio l'ultimo articolo pubblicato dedicato a questo corso come vi dicevo è gratuito ha un limite di 100 posti ci sono c'è prima un subito appena vi registrate un regalo ed è un manuale proprio di gestione semplice molto pratico ma sulla gestione delle acque in camper e in caravan e poi al fine del corso c'è un ulteriore regalo per gli amici di cristiano vi aspetto venerdì 5 registratevi dal dopo la registrazione verrà generato un link per una con una stringa su zoom e lì ci sarà direttamente il nostro corso vi aspetto fate i bravi perché fare il cattivo